Ciao, sono Paolo Vacci, vi presento questo Forti Van della Fond Vendome. Lo caratterizza questo bel paraurti che è proprio da fuori strada, infatti è un 4x4. Cliccate sulla vostra destra in alto e si aprirà la scheda con tutte le caratteristiche di questo campo e gli optional, il prezzo di listino e soprattutto il prezzo chiave in mano, che è quello che vi serve per poter fare un ragionamento d'acquisto. Poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina che sarete sempre aggiornati di tutti i nostri video. Andiamo al suo interno, intanto il tavolo è possibile prenderlo e agganciarlo qui con lo stesso tavolo, poter mangiare fuori. Poi frigorifero che si apre sia in questa versione con il congelatore, quando siamo all'esterno, oppure quando siamo all'interno si apre in questo modo, quindi molto funzionale. Poi la zona giorno, allora questo camper 4x4 non è per andare nel deserto, però vi permette di andare in qualsiasi parte vogliate andare, proprio perché a volte ci troviamo, soprattutto se è andato in Grecia, in Sardegna, al mare, quindi prendere delle stradine per arrivare nelle calette che sono veramente uniche, oppure in montagna per farsi delle passeggiate e non avere problemi e vivere veramente la natura. Vedete questa zona giorno comoda, il tavolo che scorre e poi c'è la rotazione di questo piano per permettere di avere un piano d'appoggio anche per coloro che si sedono sull'esterno del passeggero. Qui un pensile, come vedete tutto il Fond Vendome ha un doppio scudo interno in vetro resina, quindi che rende in maniera ottima la struttura con l'isolamento e l'esterno. Il tavolo si abbassa e può diventare un terzo posto. Qua il blocco cucina con due fuochi e il lavello, vari contenitori, dei bei pensili, sia a destra che a sinistra, questo e poi questo che è diciamo un armadio. Questo va allevato però, vabbè finiamo qua, vai. Qua i cassettiere, una, due e tre molto profonde e qua un altro scestello da poter cucinare per metterci tante cose. La parte, questo è divisorio, si può allevare e quindi diventare un grande contenitore. E ora andiamo nel bagno. Il bagno porta scorrevole, questa è la seduta, guardate anche quando è così ci sto bene, ha il suo oblò, poi per fare, usare il lavello, eccolo qua. Qui ci si mettono tutte le cose per il bagno, quindi a disposizione per... E quindi, eccomi qua, ci si laviamo benissimo. È basso, però è ben posizionato. E la doccia. Guardate come mi muovo bene, ora questo si allunga, che isola, guardate. Mi muovo veramente bene. Eccomi qua. Quindi, io sono un metro e ottanta, guardate le dimensioni. Finestra, una bella finestra aprivile e qui in due ci si sta tranquillamente. Quindi un camper per tre posti letto, quattro omologato in strada. Questo è il contenitore, che ci hanno messo un piano, ma è possibile spostarlo. E qui le dimensioni dell'ingombro massimo. Quindi, se volete avere un camper abitabile, piccolo, che vi permette di andare da tutte le parti, questo è un camper per voi. E, come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambaci. Ciao! Ciao! Grazie.